Oggi, fratelli, voglio parlarvi della preghiera. La preghiera è una di quelle cose così importanti per un credente, una di quelle cose che non può fare a meno, non ne può fare a meno. Insieme alla lettura delle scritture, sono due cose queste che nel credente, naturalmente qualora le abbia le scritture, perché ci sono paesi perseguitati, qualora le abbia le scritture, le deve anche studiare. Mentre per quanto riguarda la preghiera, non c'è bisogno delle scritture, ma la preghiera si può fare dovunque siamo, in carcere, a casa, per strada, dovunque. Quindi ci possiamo rivolgere a Dio in qualsiasi modo, in qualsiasi posto. La preghiera. Cominciamo con le parole, le parole dove indicano un comandamento, il comandamento di pregare. E in Prima Tessalonicesi, al capitolo 5, al versetto 16 o 17, dipende da come avete la scrittura, stanno scritte queste parole. Tra le altre cose, tra gli altri comandi ed esortazioni dell'Apostolo Paolo, ci sono scritte queste parole. Non cessate mai di pregare. Cosa vuol dire? Vuol dire che non bisogna mai smettere di pregare. Il credente deve essere un uomo di preghiera, un uomo che si rivolge a Dio. Infatti, pregare, cosa vuol dire? Pregare vuol dire parlare con Dio, vuol dire rivolgersi a Dio. E nel rivolgersi a Dio, naturalmente, bisogna tenere conto anche a chi ci rivolgiamo. Quindi questa preghiera, questo parlare a Dio, bisogna tenere conto a chi ci stiamo rivolgendo, quindi deve essere fatto con la massima serietà, con il massimo rispetto. Perché se rispettiamo, per dire, quando parliamo con le autorità, parliamo con i poliziotti, con i carabinieri, noi abbiamo, dobbiamo avere verso di loro, perché sono un'autorità, dobbiamo avere il massimo rispetto, anche verso di loro. Ma se abbiamo rispetto, o per paura, o per altre cose, abbiamo rispetto dell'autorità, ma tanto più, dico, i credenti devono avere rispetto nel rivolgersi all'iddio vivente vero, all'iddio che può ogni cosa, al creatore nostro, a colui che ci ha salvati e ci ha rigenerati spiritualmente. Quindi, ci dobbiamo rivolgere a Dio nel modo corretto. Naturalmente, le parole, il modo di posizionarci, come, dove, quando, quanto pregare il Dio, è chiaro che lo dobbiamo andare a prendere dalle scritture, cioè, le scritture ci ammaestrano e ci fanno sapere alcune cose, alcune, molte cose che riguardano la preghiera, come dobbiamo pregare, cosa pregare, cosa chiedere, e tutte le cose che sono necessarie per essere esauditi, quelle condizioni per essere esauditi. Però, oggi ci concentriamo su che cosa è, su alcune cose che riguardano la preghiera, perché gli argomenti sono tanti. Adesso volevo farvi leggere, quindi, la preghiera, prima di andare a leggere che cosa è, secondo le scritture, anzi, leggiamo prima. Leggiamo che cosa dice la scrittura che sia la preghiera, quella che a me piace. Io, quando penso alla preghiera, penso a questo passaggio, che troviamo in Prima Samuele, in Prima Samuele, al primo capitolo, adesso troviamo i passaggi, in questi capitoli c'è una donna, chiamata Anna. Questa donna non poteva avere figlioli. e l'altra moglie di Elcana, l'altra moglie di Elcana, diciamo che la scherniva, la faceva soffrire, e quindi questa donna aveva il cuore amariggiato, era triste, era sofferente. E cosa ha fatto questa donna? Questa donna, essendo nel Tempio, a Gerusalemme, quindi alla presenza di Dio, avendo fatto quindi un viaggio, si è presentata al Tempio dell'Iddio Altissimo, il Tempio allora era il Tempio di Gerusalemme, che poi è stato distrutto, e alla presenza dell'Iddio vivente ha presentato la sua preghiera. e sta scritto così. Al versetto 9 leggiamo, qui 1-9 di prima Samuele. E dopo che ebbero mangiato e bevuto a Scilo, Anna si levò, il sacerdote Eli stava in quell'ora seduto sulla sua sedia, all'entrata del Tempio dell'Eterno. Ella aveva l'anima piena di amarezza, e pregò l'Eterno piangendo dirottamente. E poi fece un voto all'Eterno. Però vedete, la condizione spirituale, il cuore, l'anima di questa donna col quale andò alla presenza di Dio, al Tempio di Dio, a pregare perché dentro di sé era afflitta, dentro di sé era amareggiata, c'era qualcosa che la turbava, c'era qualcosa che la disturbava, c'era qualcosa che voleva da Dio che solo Dio poteva darle. E quindi lei si è presentata e è andata dove poteva essere esaudita, alla presenza del Dio Altissimo. All'epoca si credeva che alla presenza di Dio si andava in quel Tempio, fatto di mattoni. Noi invece, il nostro viaggio, quando andiamo a pregare invece, dove lo dobbiamo fare? Il nostro viaggio è in preghiera, è andare alla presenza di Dio al trono della grazia, nei cieli, perché il nostro Padre Celeste è nei cieli. Quando andiamo in preghiera, noi facciamo appunto questo viaggio, facciamo un viaggio e ci presentiamo davanti a Dio, a portare quello che siamo noi, a dire al Signore quello che siamo noi, le nostre sofferenze, i nostri bisogni, le nostre necessità, le nostre amarezze, le nostre tristezze, quello che gli altri ci hanno fatto, lo presentiamo tutto davanti al Signore. Come fece questa donna? Come fece Anna? Infatti, più avanti sta scritto al versetto, diciamo che pregò, e poi al versetto 15 dice queste parole, perché ebbe anche uno screzio, vedete, con un uomo anziano, ma che non era poi così spirituale, il sacerdote Eli, ma Anna invece non si fece fermare da nessuna persona, anzi, rispose queste parole al sacerdote Eli, ma Anna rispondendo disse, no, signor mio, io sono una donna tribolata nello spirito, e non ho bevuto né vino né bevanda alcolica, ma stavo spandendo l'anima mia dinanzi all'Eterno. Ah, vedete, queste, cos'è la preghiera? Espandere la propria anima davanti all'Eterno. Ho voluto citare questa preghiera di Anna, perché questa, secondo me, rappresenta una buona definizione per quanto riguarda la preghiera. Cosa facciamo quando noi preghiamo? Noi spandiamo la nostra anima davanti all'Eterno, tiriamo fuori tutto quello che è dentro di noi, tiriamo fuori tutto quello che è nascosto dentro di noi, e lo dobbiamo esporre a colui che già le sa, sa tutto di noi, ma lo dobbiamo tirare fuori, perché già tirandolo fuori davanti a Dio in preghiera, già ci si sta liberando di tutta quell'immondizia che magari sta turbando le nostre anime, le sta disturbando, le sta portando un grave danno, e invece in preghiera si viene liberati, si viene liberati spandendo la propria anima davanti a Dio, quindi è questo il concetto che a me piace pensare di cosa è la preghiera, presentarsi in un viaggio, andare alla presenza di Dio, davanti al trono della grazia, e espandere tutto quello che noi abbiamo dentro, e come fece questa donna? Andare naturalmente con tutto il cuore e con tutta la propria anima, perché, perché noi soffriamo, ognuno di noi, vedete, quando è afflitto, quando è sofferente, si presenta in questo viaggio nella sua preghiera a Dio in una maniera diversa di quando va tutto bene, ed è questa forza, ed è questo che dà forza, la nostra sofferenza a volte dà una spinta e una forza e diciamo una grande spinta della preghiera dentro di noi verso l'Eterno, quindi non sempre le sofferenze, i dolori, le nostre tristezze sono da prendere in maniera negativa, anzi il Signore sa che se noi non soffriamo magari smettiamo pure di pregare, o lo facciamo leggermente, non ci mettiamo tutto il cuore, quindi talvolta il Dio perché ci vuole bene, badate bene, perché Egli ci ama, ci vuole bene, ecco quindi che provoca in noi delle sofferenze, c'è una tristezza in noi, che cosa fa quella tristezza? È il motore del nostro viaggio davanti a Dio, è di presentare la nostra anima e di spanderla davanti al Signore, quindi lungi da noi pensare che talvolta le che le sofferenze diciamo sono negative, perché ci preparano nella pazienza, la sofferenza ci fa tanto del bene, sì, provoca dolore, noi vogliamo liberarcene di questa sofferenza, però guardiamo anche la positività di questa cosa, perché se senza queste sofferenze, senza queste prove continue che sono aggrappate a noi, questo a volte è anche un pericolo della nostra stessa vita, questo fa da motore per le nostre preghiere e ci dobbiamo inginocchiare, perché perché il Dio, a volte solo il Dio ci può ascoltare, a volte solo il Dio ci può capire o meglio, perché un uomo ci può ascoltare, ma non può non comprenderci a fondo e a pieno, mentre se noi ci inginocchiamo e andiamo a pregare il Dio con tutto il nostro cuore invece, siamo sicuri che Egli ci può comprendere, siamo sicuri che Egli ci può non solo ascoltare come potrebbero fare anche altri uomini, ma soprattutto comprendere pienamente fino in fondo, approfonditamente e darci dopo quello di cui noi abbiamo bisogno. Quindi la preghiera è una cosa molto, molto importante, vedete, bisogna comprendere bene cosa è, cos'è la preghiera, dobbiamo comprenderla, farla nostra, averla sempre presente in noi e praticarla, come ha detto Paolo ai tessalonicesi, non cessate mai di pregare, perché questo è il comandamento, questo è uno dei comandamenti che Dio ci ha dato, ma questo comandamento è molto importante per noi, perché ci porta, ci fa camminare spiritualmente in comunione con Dio, perché noi quando andiamo all'Eterno in preghiera ci mettiamo in comunione con Dio, siamo una cosa sola con Dio, capite? Quindi abbiamo gli stessi sentimenti, la stessa forza, la stessa sapienza, la stessa intelligenza, non uguale a Dio, è chiaro, però facciamo parte quella misura che Dio ci vuole dare, è chiaro, di cui ci vuole far parte, non è che siamo in preghiera e sappiamo le stesse cose che sa Dio, non è questo, ma quella misura siamo comunque collegati e riceviamo da Dio quello di cui abbiamo bisogno e abbiamo molte volte un grande sollievo alla nostra preghiera, anche se siamo soli, fratelli, adesso non è il numero, non sono i fratelli che, il numero dei fratelli che abbiamo vicini che ci possono dare comunione con Dio o ci possono liberare da determinate cose o aiutare, quello che conta è il nostro personale rapporto con il Signore e la preghiera è un elemento importantissimo che segna il nostro rapporto con Dio e che non deve mancare e che deve essere capito, bisogna capire esattamente bene, profondamente cosa è la preghiera, cosa vuol dire andare a parlare con Dio, cosa vuol dire stare in comunione con Dio in preghiera, faccia a terra, chi stiamo invocando noi e perché lo stiamo invocando? Imparare a sentire dentro di noi quell'opera che fa lo Spirito Santo quando siamo in comunione con Dio e questo avviene principalmente in preghiera e quindi non dobbiamo assolutamente privarci di questo, ecco perché l'Apostolo Paolo ben sapendo questo ha detto ha comandato sospinto dallo Spirito Santo ha comandato non cessate mai di pregare come voler dire affinché e camminiate spiritualmente tutti i giorni della vostra vita non smettete mai di pregare quindi presentarsi davanti a Dio in preghiera questo è una cosa molto importante adesso passiamo andiamo avanti e passiamo a parlare di quella preghiera che i discepoli hanno chiesto di voler imparare a pregare e Gesù parlando appunto della preghiera ha insegnato una preghiera ai discepoli e dobbiamo andare al Vangelo di Matteo al capitolo 6 al Vangelo di Matteo al capitolo 6 dal versetto 6 leggiamo ma tu quando preghi entra nella tua cameretta e serrato nell'uscio fa orazione al Padre tuo che è nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa cosa dice qui il Signore quando preghi cioè quando viene il tuo momento di pregare durante la giornata cosa devi fare devi trovare il tuo luogo segreto il tuo luogo chiudere chiudere qui dice la cameretta come dire il tuo posto più segreto dove nessuno deve darti fastidio dove il mondo deve rimanere fuori dove tutto il resto deve rimanere fuori la sposa va a incontrare il suo sposo non vuole essere disturbata la Chiesa va a incontrare l'iddio vivente non vuole essere disturbata vuole intraprendere questo viaggio per andare a trovare Dio nel trono della grazia e deve e non vuole essere disturbata deve lasciare fuori ogni amarezza deve lasciare fuori da quel suo luogo di preghiera deve lasciare fuori tutto quello che non riguarderà che non riguarderà quel viaggio quella preghiera i piatti i lavori vari tutto deve rimanere tutto fuori questo dalla propria mente dal proprio cuore e materialmente bisogna richiudersi trovarsi in un luogo dove possibilmente nessuno verrà a disturbarci perché noi non vogliamo essere disturbati quando andiamo a pregare Dio a invocare il Signore con tutto il cuore quando andiamo a parlare con il nostro Signore a spandere la nostra anima davanti a Lui non vogliamo che nessuno venga a interromperci e non dobbiamo interrompere però ci dobbiamo pensare prima dobbiamo organizzare prima in queste parole c'è anche scritto una certa organizzazione che uno si organizza ci pensa qual è il luogo più segreto della casa in quale orario io posso raccogliermi in preghiera invocare il tuo nome o Signore in quale momento della giornata è meglio per me perché deve rimanere tutto fuori e io non devo essere disturbato quindi ci si organizza si entra in questa cameretta si chiude l'uscio lasciando fuori tutto quello che non riguarderà il nostro viaggio e si intraprende questo viaggio per andare alla presenza dell'Eterno dell'Idio vivente a spandere la propria anima è questo che bisogna fare quindi la preghiera bisogna anche organizzarsi non è una cosa che ci colpisce che ci investe a volte ci investe perché sentiamo improvvisamente un desiderio una forza che ci dice che dobbiamo andare a pregare e allora dobbiamo farlo perché anche quello viene da Dio perché vuol dire che in quel momento c'è quel bisogno però qui si sta parlando di preghiere organizzate che sappiamo che dobbiamo svolgere tutti i giorni perché Paolo ha comandato non cessate mai di pregare quindi dobbiamo avere il nostro tempo durante la giornata appena svegli all'ora di pranzo la sera quando uno si ritiene per lui opportuno ma quell'appuntamento fisso lo deve avere tutti i giorni non cessate mai di pregare ricordatevelo e quindi bisogna organizzarsi io da quell'ora lì sono in viaggio con il Signore quell'ora mi sembra la migliore nessuno mi dà fastidio nessuno mi disturba il luogo sarà quello e lì io intraprenderò ogni giorno a quell'ora in quei momenti che io riterrò opportuno fare il mio viaggio per spandere l'anima mia all'Eterno a colui che mi ascolta e mi esaudisce andando avanti ancora nel versetto 6 c'è scritto serratto nell'uscio fa orazione al Padre tuo che è nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa cioè il Dio dà una ricompensa a chi va a trovarlo capite cioè la preghiera viene ricompensata il viaggio il viaggio che noi facciamo al Signore per andare a trovare il Signore avrà una ricompensa cioè noi andiamo lì e prenderemo anche un regalo il Dio ci donerà un regalo quello di cui abbiamo bisogno quello che lui riterrà opportuno che noi ci dobbiamo portare indietro per ritornare sulla terra mettendola in una figura così come di un viaggio quindi quindi dobbiamo sapere che se noi cessiamo di pregare cessiamo anche di andare a prendere i nostri regali cessiamo anche di andare a prendere i doni che Dio ha preparato alla pronti ah in quel luogo pronti nel trono nel trono della grazia per il suo popolo per coloro che vanno a trovarlo quindi non andiamo a trovarlo e non riceviamo i doni e poi ci lamentiamo ah ma io Signore non sono come quel fratello a me non mi hai dato le cose che ha quel fratello però bisogna domandarsi quante ore si inginocchia quel fratello si è ricevuto qualcosa quante ore e tu quante ore ti inginocchi al giorno se vuoi ricevere qualche cosa prima di guardare agli altri che hanno ricevuto qualcosa domandiamoci se noi abbiamo fatto di tutto abbiamo fatto quello che ci necessitava per ricevere qualcosa quindi non guardiamo tanto agli altri ma guardiamo a noi e alla scrittura per quanto riguarda quello che si riceve si è ricevuto quindi sappiatelo questo che in preghiera si va al Signore e si ricevono dei doni che Dio stabilirà lui quali noi domandiamo e poi vedrà lui quali doni donarci però sicuramente è scritto e la parola non può mentire il Dio non mente non ha mentito e non mentirà mai e c'è scritto che il padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa e questa è parola di Dio noi vogliamo le ricompense che Dio ci vuole dare e allora andiamo a prenderle non ci vai e allora non pretendere nulla non pretendere nulla cosa pretendi i doni di Dio senza inginocchiarti senza farti i calletti alle ginocchia cosa pretendi cosa pretendi da Dio vuoi che venga lui sempre da te a domandarti cosa ti serve viene lui adesso cosa ti serve a te filo d'erba filo d'erba cosa ti serve a te no è il filo d'erba che va davanti all'Eterno all'Iddio Onnipotente a spandere la sua anima e a chiedere ciò di cui ha bisogno ecco perché bisogna capire con chi si ha a che fare affinché veramente comprendiamo quanto quanto siamo piccoli noi e quanto è grande il nostro Dio e quindi ci dobbiamo accostare a Lui nel massimo rispetto perché Lui Egli è l'Eterno il Creatore colui che ha fatto ogni cosa ma andando avanti sempre le parole che ha scritto Matteo al versetto 9 Gesù insegna come pregare e dice queste parole voi dunque pregate così quindi questa esortazione di Gesù ci dice di pregare così quindi possiamo sia ripetere a memoria questa preghiera non è come taluni dicono che questa preghiera non la possiamo ripetere a memoria possiamo ripeterla a memoria però dobbiamo capirne anche il significato dobbiamo capire anche cosa ci insegna questa preghiera tutte e due le cose e noi qui adesso parleremo appunto di alcune cose che ci vuole insegnare questa preghiera la preghiera dice così Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome Padre nostro inizia così la preghiera non inizia Padre mio perché l'aggettivo possessivo indica un rapporto una relazione che c'è tra noi e Dio va bene tra Gesù e Dio quando Gesù ha detto Padre mio lui lo poteva dire Padre mio perché perché la relazione che c'era tra Gesù e Dio era una relazione particolare singolare noi invece siccome la nostra relazione con Dio col Padre Celeste è uguale simile a quella di tanti altri fratelli e altri uomini che sono uomini e donne che sono stati rigenerati spiritualmente da Dio ecco perché per noi è lecito domandare di rivolgerci a Dio dicendo Padre nostro non dicendo Padre mio lasciamo stare che alcuni si rivolgono a Dio dicendo papà papino ma questo è una mancanza di rispetto quindi proprio non vanno accettati questi modi di pregare di rivolgersi a Dio perché dobbiamo sempre avere il massimo rispetto così come abbiamo il rispetto necessario quando ci rivolgiamo a un'autorità di questa terra quindi tanto più quando ci rivolgiamo all'Iddio vivente vero dobbiamo avere il massimo rispetto quindi a Dio ci rivolgiamo anche in questa maniera non è solo così ma anche in questa maniera dice chiamandolo Padre nostro Padre perché? perché ci ha rigenerati spiritualmente altrimenti non possiamo chiamarlo Padre perché lo chiamiamo Padre? che relazione c'è tra noi e il Padre e lì Dio vivente è vero e il nostro Padre ci ha rigenerati sono stati purificati i nostri peccati se sì gloria a Dio continuiamo con questo tipo di preghiera se no allora la preghiera cambia allora bisogna concentrarsi sul fatto che bisogna ravvedersi e credere nell'Evangelo per essere rigenerati spiritualmente affinché Dio diventi il Padre il Padre anche di colui che ancora non è salvato non è purificato dai suoi peccati ma noi ci stiamo rivolgendo principalmente a coloro che sono già stati rigenerati a coloro che sono nati di nuovo a coloro che si possono rivolgere a Dio come Padre quindi Padre nostro che sei nei Cieli quindi la prima parte della preghiera ci insegna che dobbiamo quando iniziamo a pregare dobbiamo iniziare definendo chiaramente a chi ci stiamo rivolgendo possiamo anche dire ci rivolgiamo a te o Dio d'Abramo di Isacco e di Giacobbe a te che hai creato i Cieli e la Terra a te che hai mandato il tuo figliolo a morire sulla croce qui sulla Terra a te Padre nostro ci rivolgiamo quindi questa preghiera ci insegna che la prima parte della nostra preghiera che noi facciamo quando andiamo a spandere l'anima nostra è che dobbiamo individuare chiaramente chiaramente a chi ci stiamo rivolgendo perché chi ci ascolta chi ci dovesse ascoltare che insieme a noi che ascolta la nostra preghiera se dovessimo un giorno quando preghiamo con gli altri con gli altri fratelli e sorelle devono avere devono sentire anche una preghiera che ha una certa organizzazione capite quando si parla con una persona bisogna che il discorso abbia anche una certa organizzazione e qui nella preghiera del Padre nostro vediamo una certa organizzazione nella preghiera che dobbiamo farla nostra e quando andiamo a Dio dobbiamo tenere conto di questi punti la possiamo anche modificare però se noi non sappiamo come pregare sappiate che questa qui ci insegna i punti che noi dobbiamo considerare quando andiamo in preghiera quindi la prima parte che dice a chi ci dobbiamo rivolgere sia santificato il tuo nome e quindi dobbiamo riconoscere chi è Dio che gli è santo quindi ci dobbiamo santificare anche perché Dio non esaudisce le preghiere di un empio non esaudisce le preghiere di uno che si conduce male quindi bisogna sapere che Dio è santo vedete che Dio è santo e anche noi ci dobbiamo santificare e dobbiamo santificare il suo nome lì Dio tre volte è santo dobbiamo lodarlo glorificarlo quindi la seconda parte il secondo punto di cui dobbiamo tenere conto nella nostra preghiera è che la prima parte a chi ci rivolgiamo la seconda che una volta individuato chi è lì Dio a cui ci rivolgiamo dobbiamo lodarlo glorificarlo santificarlo dobbiamo innalzarlo glorificarlo in tutte le maniere quindi un'altra parte vedete necessaria che ci sia nella nostra preghiera quando spandiamo il nostro cuore a Dio la lode la gloria che si deve dare a Dio venga il tuo regno sia fatta la tua volontà anche in terra come fatta nel cielo quello che conta più di tutti è la volontà di Dio quindi bisogna tenerla in massima considerazione la volontà dell'Iddio altissimo vogliamo che noi desideriamo ardentemente che la volontà di Dio sia fatta in ogni luogo non solo come fatta in cielo ma anche nella terra e noi domandiamo questo che possiamo entrare anche nello specifico Dio fai questo salva questo salva quell'altro se è nella tua volontà se è secondo la tua volontà quindi dobbiamo domandare a Dio che Egli faccia la sua volontà poi la preghiera ci insegna anche che c'è una parte di richiesta di richiesta che riguarda le nostre persone dacci oggi il nostro pane quotidiano vedete questo cosa rappresenta rappresenta l'inizio delle nostre richieste a cominciare dal cibo quotidiano di tutti i giorni ma se abbiamo bisogno di una guarigione se abbiamo bisogno di qualsiasi altra cosa un lavoro una moglie un marito chi ha bisogno di qualsiasi cosa la deve domandare a Dio dopo gli altri punti che abbiamo enunciato ecco quindi che c'è un altro punto quello delle richieste che si devono fare a Dio quando si spande la propria anima al Signore si devono c'è il punto in cui si possono fare le richieste all'iddio altissimo quello di cui ciascuno di noi ha bisogno lo deve presentare lo deve richiedere al Signore un'altra cosa importante che viene presentata nella preghiera è quello che segue e cioè rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori vedete una parte importante che dobbiamo ricordarci sempre nella preghiera di fare e chiedere che Dio ci rimetta i nostri peccati perché tutti i giorni noi offendiamo il Dio in qualche maniera o con peccati che sappiamo di aver commesso o con i peccati che noi non sappiamo di aver commesso quelli che ci sono occulti comunque dobbiamo chiedere perdono a Dio tutti i giorni tutte le volte che ci mettiamo in preghiera dobbiamo chiedere a Dio che ci rimetta i nostri peccati che ce li lavi con il sangue prezioso di Gesù Cristo e questo è messo qui proprio come come un punto fondamentale uno dei punti fondamentali che si devono chiedere nella preghiera perché questa è una preghiera guida una preghiera guida che Gesù ha dato ha dato al suo popolo affinché affinché diciamo abbia degli elementi guida per potersi presentare in preghiera davanti al Signore stavo dicendo che un punto importante che bisogna considerare nel richiedere a Dio è quello di rimettere i nostri peccati ma questa questa richiesta che si fa a Dio è strettamente connessa ad un'altra condizione che è importante dobbiamo ricordarcelo sempre ed è questa come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori vedete poi più avanti dice al versetto 14 dice perché se voi perdonate agli uomini i loro falli il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi ma se voi non perdonate agli uomini neppure il Padre vostro perdonerà i vostri falli quindi è una cosa fondamentale chiedere ogni volta che andiamo in preghiera chiedere a Dio che ci perdoni i nostri peccati ma è altrettanto importante per essere esauditi perché la preghiera si fa per essere esauditi quindi dobbiamo mettere in atto tutte quelle condizioni tutto quello che è possibile per noi affinché siamo esauditi è una delle caratteristiche è una delle cose che dobbiamo tenere conto è quella lì che non possiamo chiedere a Dio perdono per i nostri peccati se noi invece non abbiamo rimesso i peccati a chi ha sbagliato verso di noi e ci ha chiesto perdono se non ci hanno chiesto perdono non c'è nulla da perdonare no? nel senso cioè qui la condizione è quella che se uno ci chiede perdono noi siamo obbligati a perdonare altrimenti la situazione che si crea è questa che noi pregheremo il Dio se non perdoniamo i nostri fratelli noi pregheremo il Dio ed egli non ci ascolterà non ci esaudirà i nostri peccati non saranno perdonati non saranno lavati perché avremo chiuso la porta al perdono di coloro che hanno chiesto perdono a noi quindi vedete è una cosa importante perdonare quando ci chiedono perdono non ci si può esimere dal perdonare non si può anche se ci hanno fatto tanto del male anche se ci hanno fatto il male più male di tutto questo del mondo però se ci chiedono perdono siamo obbligati non è una facoltà non è se ne ho voglia non è se è possibile perché se no si interrompe la comunione con il Dio altissimo quindi siamo obbligati a perdonare quelli quelli che ci chiedono perdono noi li dobbiamo perdonare perché poi anche noi andiamo davanti a Dio tutti i giorni a chiedere perdono perché abbiamo fallito in qualcosa quindi questa condizione è importante per essere esauditi se uno non perdona il fratello che ti ha chiesto perdono come puoi essere poi a tua volta essere perdonato da Dio vi ricordate infatti quella parabola di quell'uomo che aveva tanti debiti con il Signore con il Re e il Re e non li poteva pagare e il Re gliele ha rimessi gratuitamente senza ha rimesso i debiti come fa il Signore nel rimettere i peccati senza che noi li possiamo pagare noi i nostri debiti i nostri peccati non li riusciamo a pagare non siamo in grado in nessuna maniera di poterli pagare il Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù rimette i nostri debiti vengono levati il debito viene levato via non ce l'abbiamo più però se qualcuno ha dei debiti nei nostri confronti anche noi li dobbiamo rimettere a loro perché altrimenti se noi lo prendiamo per il collo come fece quell'uomo lì che vogliamo che paghino tutto non possiamo a nostra volta pretendere che i nostri debiti nei confronti di Dio siano rimessi quindi è una cosa molto importante strettamente legato il perdono dei peccati alla preghiera che noi invochiamo il Dio che noi innalziamo a Dio la preghiera per ottenere il perdono dei nostri peccati ma questo è strettamente legato alla condizione che anche noi dobbiamo perdonare coloro che hanno peccato e ci hanno chiesto perdono al versetto 13 è scritto non ci esporre alla tentazione ma liberaci dal maligno cosa ci ricorda questo ci ricorda che siamo in guerra fratelli che siamo in guerra contro il regno delle tenebre che siamo in guerra contro il maligno questo ci ricorda questo passaggio e abbiamo bisogno di chi di Dio che ci aiuti abbiamo bisogno che Dio ci fortifichi che ci preservi da ogni male abbiamo bisogno che non ci esponga la tentazione ci aiuti a non cadere nella tentazione e quindi questo è un punto un altro punto importante fondamentale della preghiera che Dio ci aiuti in questa battaglia di tutti i giorni contro il maligno e anche contro l'inclinazione che abita dentro la nostra carne verso il peccato combattiamo contro la nostra natura combattiamo contro il maligno e le sue tentazioni siamo in guerra non siamo in vacanza in questa terra quindi siamo in guerra e nella preghiera ogni volta ce lo dobbiamo ricordare pregando Dio che non ci esponga la tentazione e ci liberi anche dal maligno quindi vedete siamo in guerra e ce lo dobbiamo ricordare ogni volta che preghiamo in questa maniera tenendo conto di questo punto ci ricordiamo che contro chi è la nostra guerra contro chi è la nostra battaglia contro chi stiamo combattendo contro il maligno contro il regno delle tenebre perché vi ricordate quel passo dove è scritto vi ricordate quel passo dove c'è scritto che il nostro combattimento non è contro carne e sangue ma contro gli spiriti contro i demoni e quella è la nostra vera battaglia e in ogni preghiera ce lo dobbiamo ricordare e dobbiamo chiedere a Dio di liberarci da ogni male e di non ci esporre alla tentazione affinché noi non cadiamo ma che Dio ci fortifichi e ci sostenga in ogni prova e in ogni difficoltà adesso fratelli avete visto alcuni punti alcuni punti ma si possono sviluppare leggendo le scritture le preghiere di altri si possono sviluppare altri punti quindi voi ve li annotate quelli che vi piacciono di più e così organizzate la vostra preghiera la strutturate così voi imparerete a pregare si impara così a pregare studiando le preghiere degli altri quelle soprattutto bibliche e lì si comprende la struttura e poi dopo si imposta la propria preghiera e ogni volta naturalmente non con sempre le stesse parole però la struttura può rimanere organizzata in una certa maniera ma cambiando di volta in volta le parole si possono cambiare le parole non è che dobbiamo fare una preghiera scritta e ripeterla a memoria come fanno i cattolici no però avere mentalmente strutturata una preghiera come si fa una preghiera è una cosa buona perché non sarete mai presi di soprassalto perché vedete fratelli bisogna imparare a pregare bisogna imparare cosa vuol dire pregare e come si deve pregare bisogna imparare e la scrittura ce l'abbiamo e la scrittura ci insegna anche a pregare quindi ci dobbiamo mettere sotto e imparare come si prega imparare non è che solo ascoltando gli altri che pregano non è che per forza dobbiamo assomigliare agli altri nella preghiera ce la possiamo strutturare anche da noi una preghiera un'organizzazione di una preghiera con diversi punti e fare la nostra preghiera che ci accompagnerà tutta la vita si andrà sempre migliorando naturalmente praticandola poi noi la miglioreremo e Dio e lo Spirito Santo pure ci guideranno ci guideranno nel migliorarla di continuo e Dio non si compiace degli stolti quelli che sanno e vanno finta di non sapere quelli che hanno i mezzi per studiare e non studiano e non vogliono sapere non si compiace dell'ignoranza il Signore Dio quindi non si compiace neanche di quelli che omettono di perseverare nella preghiera non si compiace neanche di queste persone quindi forza animo e andiamo avanti strutturiamo e studiamo la nostra preghiera strutturiamola e pratichiamola davanti al Signore senza cessare mai di pregare un'altra cosa che volevo considerare con voi è la posizione del corpo cioè noi diciamo che preghiamo in ginocchio però ci saranno pure delle scritture che ci dicono come pregare e quindi dobbiamo fare tutto quello che noi facciamo lo dobbiamo fare perché lo troviamo scritto nelle sacre scritture non perché abbiamo già detto un fratello oppure abbiamo visto fare così è una cosa giusta pregare in ginocchio e adesso vedremo alcuni passi come alcuni esempi di preghiere fatte in ginocchio perché ricordandoci sempre che noi ci presentiamo davanti alla massima autorità di tutta la creazione se noi davanti a un'autorità quando entra un tribunale quando entra la corte non in un tribunale quante volte avrete visto magari da qualche parte entra la corte tutti in piedi e si devono alzare tutti perché rappresentano la legge rappresentano un'autorità la corte di giustizia nei tribunali quando entra nell'aula e si alzano tutti in piedi ebbene quando ci si presenta a un'autorità ancora superiore a quella dei tribunali qual è la posizione del corpo che bisogna tenere sempre una posizione nel corpo che deve riconoscere l'autorità a cui ci stiamo rivolgendo quindi la posizione del corpo che è corretta tenere in preghiera quando quando ci si rivolge all'iddio altissimo è la preghiera fatta in ginocchio non è che uno non può pregare seduto per mangiare non può pregare in piedi attenzione però attenzione io sto parlando di una preghiera di quel momento in cui uno si ritaglia nell'arco della giornata e va a innalzare una preghiera a Dio particolare quindi uno può pregare può parlare col Signore anche camminando può però c'è il momento nella giornata in cui uno si deve ritagliare del tempo per andare a fare quel viaggio a spandere la propria anima davanti al Signore e questo momento deve essere fatto espressamente in ginocchio almeno che non ha una malattia cioè non può inginocchiarsi deve essere proprio impedito ma se può farlo lo deve fare e noi dimostreremo con le scritture che è corretto pregare in ginocchio nel Salmo 95 al versetto 6 leggiamo questa esortazione del salmista il salmista fa questa esortazione per sé e per quelli che leggono e che ascoltano dice così venite adoriamo e inchiniamoci inginocchiamoci davanti all'Eterno che ci ha fatti e questa è l'esortazione che fa la parola a coloro che si accostano all'Eterno all'Iddio vivente si devono accostare a Dio invocare Dio si devono inginocchiare si devono prostrare davanti all'Eterno l'Iddio Onipotente perché Egli è degno di essere adorato Egli è degno di essere glorificato e di umiliarsi davanti a Lui perché ricordatevi che sta anche scritto che chi si umilia davanti a Lui Egli poi lo innalza ma chi si innalza davanti a Dio sarà abbassato e poi ricordatevi pure che è scritto che ogni ginocchio si piegherà davanti al Signore ma ci saranno quelli che lo faranno forzatamente quando il Signore tornerà noi che siamo i figlioli dell'Iddio Altissimo colui che che Cristo ci ha purificato dai nostri peccati noi siamo quelli che siamo stati perdonati dai nostri peccati e riconosciamo già da noi stessi l'Iddio Altissimo e la sua autorità che gli è degno di essere adorato e glorificato quindi non c'è bisogno che ci forzi i Dio a inginocchiarci davanti a Lui quando preghiamo ma ci dobbiamo inginocchiare di nostra volontà di nostra cioè ci inginocchiamo volontariamente davanti a Dio e lo facciamo con piacere riconoscendo che ci rivolgiamo al Signore i Dio quindi facciamo ascoltiamo l'esortazione che fa il salmista venite quindi l'esortazione ad andare a Dio venite adoriamo adorare il Dio inchiniamoci riconoscendo quindi che il Dio è l'Altissimo inginocchiamoci davanti quindi alla presenza dell'Eterno che ci ha fatti Egli ci ha fatta noi ci ha anche non solo ci ha fatti ma ci ha anche rigenerati spiritualmente perché noi eravamo morti nei falli e nei peccati e siamo stati rigenerati purificati da ogni peccato e ora quindi non viviamo più per il mondo ma noi siamo schiavi di Cristo siamo diventati figlioli dell'Idi Altissimo sottoposti sottoposti alla legge alla legge di Cristo non siamo un regno senza legge la legge ce l'abbiamo e la dobbiamo dobbiamo osservare adesso vediamo qualche esempio di cominciando da Gesù un passo in cui Gesù che pregava il Padre Gesù che è Dio lui per pregare il Padre si inginocchiava quindi se Gesù che è Dio si inginocchiava tanto più noi che siamo carne e polvere ci dobbiamo inginocchiare quando invochiamo l'Idi Dio Altissimo e dobbiamo andare al Vangelo di Luca al capitolo 22 al versetto 41 qui prima di essere arrestato Gesù va a pregare nel Gezzemani nel nel monte degli Olivi chiamato Gezzemani e lì insieme ad altri insieme ad altri discepoli prega i Dio e c'è scritto ci sono scritte queste parole ed egli si staccò da loro circa un tiro di sasso e postosi in ginocchio pregava vedete Gesù per pregare il Padre si inginocchiava non solo non solo qui ma anche in altri punti Gesù si inginocchiava ci dava l'esempio capite quando c'è scritto nella parola che Gesù è il nostro duce e perfetto esempio di fede ed egli è anche il nostro perfetto esempio di comportamento e anche di preghiera ma anche di preghiera nella posizione del corpo che bisognava tenere quindi se Gesù si inginocchiava anche noi siamo tenuti in quel tempo che ci mettiamo a pregare di inginocchiarci adesso vediamo anche un altro esempio andiamo nel libro degli Atti degli Apostoli dove vediamo altri esempi ad esempio anche Stefano pregava invocava invocava Gesù e si è inginocchiato capitolo 7 di Atti al versetto al versetto 60 diciamo che Stefano fu fu preso dai giudei e lui fece un lungo discorso contro i giudei contro gli ebrei e questi si irritarono fortemente e allora perché non potevano resistere alla sua sapienza e proprio in quel momento lo lapidarono cioè uccisero Stefano in quel momento al versetto 60 leggiamo prima che Stefano morì morisse dice così poi postosi in ginocchio gridò ad alta voce il Signore non imputar loro questo peccato e detto questo si addormentò vedete Stefano si pose in ginocchio si pose in ginocchio e chiese vedete cosa aveva nel cuore verso coloro che lo stavano uccidendo ecco perché è importante la predisposizione del cuore con il quale noi andiamo a Dio questa è una predisposizione molto importante a favore dei suoi uccisori Stefano non solo si inginocchiò quindi si inginocchiò fisicamente ma anche con il suo cuore e con la sua anima che spandeva davanti a Dio erano in comunione con Dio erano a favore del suo prossimo era a favore cioè voleva il bene soltanto anche di coloro che lo stavano uccidendo quindi questa era la predisposizione del cuore che aveva Stefano e questa è la predisposizione del cuore che dobbiamo avere anche noi cioè è importante andare a Dio non solo con il fisico è importante anche come ci poniamo con il nostro corpo davanti a Dio ma è molto più importante come ci predisponiamo con il nostro cuore e con la nostra anima davanti a Dio perché perché se preghiamo solo con la bocca anche se siamo inginocchiati ma non partecipa il cuore non partecipa la nostra anima la preghiera non servirà a nulla la preghiera non servirà a nulla quindi ci dobbiamo predisporre col fisico e col cuore e con l'anima quando andiamo a pregare il Signore e Stefano è uno degli esempi ma anche Pietro in un momento in una preghiera in un punto c'è scritto quando pregò per la risurrezione di Tabita qui siamo al capitolo 9 di Atti lo chiamarono perché c'era una donna che faceva molte opere buone per il popolo e morì questa donna ha un certo questa discepola diciamo di Gesù morì fu chiamato Pietro e Pietro andò per pregare per lei e al versetto 40 quindi 940 di Atti degli Apostoli leggiamo queste parole ma Pietro messi tutti fuori si pose in ginocchio si pose in ginocchio vedete e pregò e voltatosi verso il corpo disse Tabita levati ed ella aprì gli occhi e veduto Pietro si mise a sedere quindi Pietro per pregare per la risurrezione di questa donna guardate bene che la risurrezione voglio aprire questa parentesi le guarigioni di Dio sono ancora per oggi non sono cessate il fatto che magari non veniamo guariti in tutto e per tutto e tutti quanti e in tutte le malattie non vuol dire che Dio non guarisca e Dio non solo guarisce però ci tengo a dire ma anche può risuscitare dai morti perché non c'è un limite all'opera dell'iddio vivente non c'è un punto in cui Egli non possa agire o non possa oltrepassare Egli può guarire e può anche risuscitare dai morti nulla è impossibile al nostro Dio ed è per questo che è degno di essere invocato glorificato pregato e creduto creduto e avere fiducia in Lui e Pietro si mise in ginocchio pregò per la risurrezione di quella donna Tabita e Dio lo esaudì vedete fu esaudito ma non solo si predispose con il cuore Pietro perché se bastasse la predisposizione del cuore noi troveremo che quel Pietro avrebbe solo pregato per questa donna ma se la scrittura ci tiene a poter dire che Pietro si inginocchiò per pregare significa che è importante anche quello e quindi è importante se è importante per la scrittura lo deve essere anche per noi se è importante quello che ha fatto Pietro è importante anche che lo facciamo noi ecco quindi vedete che la scrittura ci guida anche nella posizione del corpo ci sono già diverse persone poi senza contare che andando indietro nelle scritture nel Vecchio Testamento i profeti che si inginocchiavano per adorare il Dio Altissimo è chiaro che la posizione del corpo per andare a fare il viaggio in preghiera espandere la propria anima davanti a Dio è quella lì quella lì dell'inginocchiarsi stare inginocchiati davanti a Dio mi ricordo le mie prime preghiere in ginocchio insieme ai fratelli io vidi dei fratelli che pregavano in ginocchio non li avevo mai visti ma li vidi e cominciai a pregare in ginocchio un paio di minuti resistevo poi facevano male le ginocchia all'inizio facevano male poi piano piano si impara a resistere sempre di più quindi si resiste il tempo giusto anche se fanno male all'inizio però poi dopo piano piano ci si fortifica anche le ginocchia si fanno anche i calli sapete Giacomo quando morì quando lo lavarono per pulirlo per seppellirlo videro che le ginocchia aveva dei calli grandissimi chi ha riportato la testimonianza chi ha scritto ha detto che aveva dei calli come ce li hanno dure come come ce li hanno i cammelli perché i cammelli si appoggiano con le ginocchia quando si si sdraiano per terra e aveva dei calli durissimi questo cosa vuol dire vuol dire che Giacomo aveva ricevuto i doni che aveva ricevuto però Giacomo apostolo il fratello del Signore sto dicendo Giacomo fratello del Signore e Giacomo passava molto tempo in preghiera e lo faceva in ginocchio se no non aveva i calli alle ginocchia e quando e questo sarebbe una prova sarebbe anche una prova faccio un esempio se uno viene a noi e ci dice io sono un dottore della legge io sono un grande ministro di Dio io ho questo e ho quell'altro e Dio mi ha fatto e Dio mi ha detto basterebbe un esempio semplice per vedere se questo è veramente da Dio oppure no bisognerebbe dirgli alzati il pantalone fammi vedere un ginocchio fammi vedere tutte e due le ginocchia io da lì riconoscerò se tu sei un servo di Dio oppure no basterebbe questo perché se sono cianciatori seduttori di menti è chiaro che se fanno i piastrellisti non vale più questa prova perché i piastrellisti essendo magari spesso in ginocchio se li fanno ma per motivi di lavoro non di preghiera invece se un pastore dice qua e qua là non lavora non fa niente durante la giornata e dice tu sei un servitore di Dio fammi vedere le ginocchia se hai i calli alle ginocchia allora discutiamone potrebbe anche essere non è detto ma potrebbe anche essere ma se non ha neanche il minimo segnale di appoggiamento delle ginocchia a terra quello può dire tutto quello che vuole con la bocca ma non corrisponde a verità perché i servitori di Dio si inginocchiano davanti al Signore Gesù si inginocchiava e noi ci dobbiamo inginocchiare i servitori di Dio sanno avendo le scritture che li guida che devono inginocchiarsi davanti a Dio a pregare bisogna passare del tempo in preghiera quindi basterebbe guardare le ginocchia visto che vanno al mare molti andiamo anche noi al mare andiamo a vedere le ginocchia di tutti questi grandi predicatori e guardiamole vediamo se c'è un segnale che ci può far capire che passano del tempo in preghiera per quanto riguarda il tempo anche quello è importante perché uno si domanda ma cinque minuti bastano quanto tempo devo dedicare alla preghiera e vediamo cosa dice il Signore anche per quanto riguarda il tempo da passare in preghiera quindi il tempo da passare in ginocchio in preghiera sia come argomentazioni e sia per quanto riguarda in posizione quindi e qui dobbiamo tornare sempre adesso andiamo nel Vangelo di Matteo capitolo 26 il versetto è il 40 qui siamo sempre nel giardino del Gezzemani Gesù andò a pregare non so lui con altri discepoli lui pregò poi andò a vedere cosa stavano facendo i discepoli e al versetto 40 dice poi venne ai discepoli e li trovò che dormivano e disse a Pietro così non siete stati capaci di vegliare Mecco un'ora sola? vedete cioè non avevano pregato neppure un'ora non erano riusciti a pregare il Dio neppure un'ora cioè Gesù pone quel tempo come un limite minimo cioè come dire almeno un'ora quando vi riunite almeno un'ora quando vi ritirate per pregare per andare a trovare il Dio al trono della grazia almeno un'ora ce la dovete impiegare e questo è il significato è così che mi sento di dire perché il minimo quando ci si ritira davanti a Dio non può durare cinque minuti non fa in tempo neanche inginocchiarti non fa in tempo neanche a lodarlo a glorificarlo e invece e invece il Dio Gesù stabilisce vedete dice appunto un'ora almeno un'ora siete in grado di pregare il Dio almeno un'ora al giorno siete in grado ecco questo limite ci serve per sapere se stiamo facendo dono il nostro dovere giornalmente capite attenzione non è che un'ora e poi basta è scattato uno prega in base alle necessità che ha di più di un'ora un po' meno di un'ora va bene però cinque minuti dieci minuti quando si va a trovare il Signore non si può non si può non si può pregare per cinque minuti ecco questo è il significato quando si prende del tempo per andare a trovare lo sposo il Dio nostro altissimo bisogna sapere che ci si mette del tempo ma non è che uno c'è l'orologio mancano ancora cinque minuti prima di quell'appuntamento con un amico mi metto a pregare no non è così prima il Signore gli devi dedicare proprio uno spazio ben preciso nella giornata per impiegare almeno un determinato numero una quantità di tempo necessaria a spandere l'anima tua e qui Gesù Gesù dice neppure un'ora come dire al minimo almeno un'ora sei capace o no di pregare almeno un'ora davanti a Dio al giorno sei capace o no ti devi impegnare devi diventarlo capace se non lo sei ancora non è che si può lasciare ah io non sono capace no no devi diventarlo almeno un'ora quello è un limite minimo diciamo minimo che si deve considerare per ritenersi non dico a posto perché la preghiera più ce n'è meglio è non è che stiamo ponendo un limite stiamo ponendo un limite minimo non un limite massimo quindi in base a come noi ci predisponiamo a Dio tanto riceveremo dal Signore capite in base a come noi ci disponiamo a Dio in base a come noi chiediamo e ci andiamo in preghiera a Dio tanto riceveremo se noi a Dio non andiamo mai non riceveremo mai i doni le ricompense i premi e quindi e quindi che cosa pretendiamo che cosa pretendiamo se non andiamo a Dio e non andiamo nel tempo nel momento giusto e nella maniera giusta quindi siamo qui appunto per ricordare queste cose che sono scritte affinché tutti noi impariamo a pregare affinché impariamo ad affrontare la preghiera giornalmente come piace il più possibile come piace al Signore quindi almeno un'ora fratelli bisogna pregare e ancora leggiamo ancora leggiamo continuando sempre in Matteo questo è importante perché cosa ci fa capire il passaggio seguente a quello che abbiamo letto che dice così bene è lo spirito pronto no vegliate ed orate affinché non cadiate in tentazione bene è lo spirito pronto ma la carne è debba vegliate ed orate state svegli fratelli dedicate del tempo alla preghiera non siate addormentati non fate cadere la cosa nel dimenticatoio bisogna vegliare in preghiera bisogna pregare perché perché lo scopo della preghiera qui dice Gesù è quello di non cadere in tentazione questo cosa vuol dire che se noi cessiamo quindi disubbidiamo al comandamento che ci ha detto Paolo non cessate mai di pregare cosa succede qual è la conseguenza se noi cessiamo di pregare la conseguenza se noi cessiamo di pregare è quella lì che è quella lì che la carne prende di nuovo il sopravvento di nuovo perché infatti è scritto affinché non cadiate in tentazione questo cosa significa che noi chiediamo di non cadere in tentazione quindi Dio ci esaudisce ma se noi non lo chiediamo significa che è molto probabile quasi sicuro forse sicuro che noi in tentazione cadiamo se non ci dedichiamo del tempo in preghiera perché non siamo spirituali sicuramente quando non siamo spirituali è perché preghiamo o non preghiamo niente o preghiamo poco o preghiamo male oppure preghiamo male e Dio non ci ascolta e quindi non siamo spirituali e quindi cadiamo nelle tentazioni e quindi stiamo diventando come quelli del mondo uguali a quelli del mondo facciamo le cose di che fanno quelli del mondo e questo non va bene questo non va bene tutto questo perché perché non abbiamo perché abbiamo cessato di pregare quindi abbiamo disubbidito al comando che Paolo che Paolo che Dio ha dato attraverso l'Apostolo Paolo quindi ricordatevi sempre non cessate mai di pregare perché la preghiera ci mantiene in comunione con Dio otteniamo da Dio quello di cui abbiamo bisogno e rimaniamo in piedi nelle prove in tutte le nostre difficoltà e spiritualmente non veniamo non cadiamo spiritualmente quindi fratelli vedete è importantissimo è fondamentale fondamentale che noi perseveriamo nella preghiera per rimanere in comunione con Dio e non cadere nelle tentazioni del diavolo quando il diavolo le presenterà davanti a noi la preghiera è quindi fondamentale pregare Dio prendersi del tempo durante la giornata affinché andiamo a trovare il Signore e questo tempo non deve essere non deve avere non deve avere un limite minimo minimo proprio di 5 minuti 10 minuti ora sappiamo che Gesù meno di un'ora non non è che non l'aggradisce che non l'ascolta attenzione può essere ascoltata anche un'invocazione di un secondo non è quello il problema però ci dobbiamo dobbiamo imparare a prenderci del tempo del tempo quindi per passare del tempo in preghiera nel viaggio andare a trovare il Dio al trono della grazia per espandere l'anima nostra e questo era la mia esortazione verso di voi fratelli e sorelle per esortarvi a pregare a perseverare nella preghiera a non cessare mai di pregare a Dio siano la gloria l'onore e la lode nei secoli dei secoli amè grazie a tutti